video che appunto è un video abbastanza strano però appunto volevo farvi conoscere un hosting che appunto è l'hosting che mi offre il servizio per ostare fabcraft e fappers game lippi li troverete tutte e due in descrizione appunto questo hosting si chiama hypers questo hosting è appunto il miglior hosting che io abbia mai provato perché devo dire che ne ho provati tanti perché ho avuto tantissimi server e questo hosting appunto è il migliore di quelli che ho provato perché hai la possibilità adesso vi faccio vedere comunque avete la possibilità di scegliere tra hosting di voce quindi voice server quindi tipo teamspeak, mumble e queste cose oppure hosting di minecraft che è appunto quello che uso io potete scegliere tra il vanilla e il bucket perché sto facendo questo video perché questo fantastico hosting mi ha messo a disposizione una key la key è appunto quella che metterò in descrizione e praticamente questa key permetterà di avere uno sconto applicato già sul prodotto del 5% quindi diciamo che è un prezzo abbastanza buono perché fate che su 9 euro ad esempio di prodotto meno il 50% è abbastanza come prezzo quindi vi consiglio vivamente di provare questo hosting perché offre veramente quello che dice non come altri hosting che promettono tipo un server da 64 giga ma invece in realtà il server è da soli 2 3 gigabyte questo qui invece è un hosting veramente veramente competente dove potete anche contattare in live chat lo staff da qui e loro vi risponderanno quasi subito infatti ho usato la live chat per farmi spiegare come settare gli hunger game bene perché serviva un database di mysql che adesso appunto è possibile avere grazie a questo fantastico servizio io direi che potrebbe anche bastare e visto che sono in argomento di hosting oltre a Hypers volevo anche farvi vedere un sito fondato da me, Michelino che i canali metterò in descrizione Michelino e I'mxen un sito molto semplice riguardante l'iTech appunto qui potrete trovare tutte le notizie recenti riguardanti l'iTech e potrete guardare e se volete commentare appunto nel forum qualsiasi vostra opinione sull'iTech qualsiasi cosa ovviamente guardate questo qui è il questo qui è come dire la schermata del forum abbiamo per ora qua c'è scritto 16 utenti registrati che non sono pochi avendo aperto pochi giorni fa e quindi aspetto anche voi vi prego di registrarvi ed è possibile anche chiedere di far parte dello staff perché appunto noi cerchiamo staff abbastanza competente per richiedere di far parte dello staff basta andare su contattaci e scrivere qui nome o quello vostro oppure quello del del come si chiama o quello del del nickname che usate preferibilmente è appunto consigliato mettere il nome proprio perché noi vogliamo sapere con chi abbiamo a che fare l'indirizzo email ovviamente l'indirizzo email dove volete ricevere risposta l'oggetto cioè se volete far parte dello staff volete segnalare il bug o robe del genere appunto il messaggio poi premete invia e arriverà la nostra email in due o tre giorni vi dovremo rispondere poi allora chiuso questo ritorniamo sul portale di Hypers io vi chiuderei qui l'episodio e ringrazierei di cuore Hypers e appunto il codice a sconto che ci ha dato quindi ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale di Michelino e Amxen che mi hanno aiutato a fondare il sito di Hitech Italia e se potete fate una piccola diciamo se dovete comprarvi un server per appunto fare una serie piccole serie robe del genere potete andare su questo sito che vi consiglio di cuore poi con la key che vi offrirò potrete acquistare il server a veramente poco quindi ragazzi da Shadow è tutto e ci becchiamo al prossimo episodio ciao ciao